Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale Sette albanesi e due italiani arrestati dai carabinieri per spaccio di sostanze stupefacenti Nascondeva la droga nell'intestino scoperto dalla polizia di Fano finisce in manette con lui anche uno spacciatore Un frammento del cuore di Santa Bernardina arriva in diocesi a Fano la reliquia della santa che vide la Madonna all'Urd Aperitivo Granata in attesa del derby di domenica prossima tra l'Alma e la Vispesa Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Ben ritrovati dalla redazione di Occhio alla Notizia Dopo un anno di indagini i carabinieri di Urbino hanno arrestato nove persone nell'ambito di un'operazione antidroga denominata Mozzicone Nove arresti di cui sette giovani in carcere e due domiciliari cento suntori di droga identificati di cui venti minorenni quindici persone denunciate in stato di libertà sequestrati oltre due chili di marijuana e circa 200 grammi di cocaina Questo è il bilancio della lunga attività d'indagine iniziata a febbraio 2014 e conclusa ieri dai carabinieri di Urbino L'attività nasce proprio da una segnalazione che è stata effettuata da un cittadino ai militari della liquota operativa Gli arresti invece quando sono accaduti? Gli arresti sono avvenuti alle 5 di ieri mattina sia nella provincia e quattro arresti invece sono avvenuti tra le province di Savona, Taranto siamo andati anche nel territorio di Fasano nella provincia di Teramo Denominato operazione Mozzicone per il nomignolo con cui si chiamavano i protagonisti ha portato all'arresto di un macedone un ucraino, 5 albanesi e 2 italiani si tratta di Martin Merolli 23enne, giocatore dell'Urbania Calcio il cugino e connazionale Erandi Cano 26enne, disoccupato ma con l'hobby dello spaccio a Cagli Ali Zeiri, 25enne macedone il custode nel garage di casa della sostanza stupefacente inoltre Giuseppe Baratto detto il calvo di 36 anni residente a Fermignano ma arrestato a Taranto città d'origine dove svolgeva l'attività di pescatore Bruno Xaiza, 26enne albanese residente a Mondavio Xevair Domi, 24enne albanese proveniente da Savona ma stabilitosi a Cagli Murat Spanesci, cittadino albanese di 24 anni Giovanni Olimpo, 27enne residente a Fermignano e Mikhailo Baziuk, 21enne cittadino ucraino non nuovo alla cronaca per aver accoltellato un ragazzo fuori da un pub di Fossombrone personaggi incensurati oppure già conosciuti alle forze dell'ordine pochissimi erano incensurati la maggior parte erano già conosciute a noi forze dell'ordine per avere già precedenti specifici proprio nel per spaccio detenzione spaccio di sostanze stupefacenti ma vi sono anche due che sono conosciuti alle forze di polizia perché hanno diciamo perpetrato reati contro la persona quindi parliamo di lesioni i nove che si spostavano con i mezzi pubblici avevano ben studiato i nascondigli per le dosi infilavano la polvere bianca incelofanata all'interno delle fessure degli asciugamani elettrici nei bar di Urbagna Fermignano e Cagli a insaputa dei titolari mettevano la droga negli incavi naturali dei tronchi di alberi ma anche nei rami alti dove la chioma era più fitta per sfuggire così al controllo dei cani cinofili poi inviavano gli acquirenti a ritirare le bustine o gli ovuli pronti la clientela andava dagli imprenditori edili ai commercianti agli operai e la consegna veniva anche a domicilio quindi nei negozi o nelle banche come è accaduto a Cagli dove un impiegato richiedeva droga di vario tipo se l'assuntore poi non pagava allora scattavano furti di denaro e vere e proprie estorsioni a Fano invece la polizia ha arrestato un nigeriano che nascondeva la droga pensate nell'intestino nascondeva la droga nell'intestino 13 in volo crincello fan contenenti eroina da circa 15 grammi ciascuno per un totale di 200 grammi di droga purissima l'uomo un nigeriano di 24 anni era appena sceso dal treno alla stazione ferroviaria di Fano in compagnia di un connazionale reduci da un arresto analogo avvenuto nei giorni precedenti gli agenti della polizia conoscevano benissimo il nuovo metodo utilizzato dagli spacciatori per trasportare la droga così hanno fermato il giovane che aveva atteggiamenti sospetti ed era in evidente stato di agitazione e lo hanno invitato a seguirle al pronto soccorso per essere sottoposto a una radiografia capendo di non poter sfuggire all'esame l'uomo ha deciso di arrendersi confessare subito con un goccio di latte caldo ha evacuato gli ovetti ed è stato arrestato il 24enne si trova ora nel carcere di Villa Fastigi mentre l'amico è stato denunciato a piede libero la sostanza stupefacente che frutta dai 50 agli 80 euro al grammo invece era destinata alla piazza fanese in particolare agli assuntori con età che varie dai 16 ai 50 anni e di diversa estrazione sociale numerosi sono stati controlli proprio effettuati sulla città di Fano in punti proprio specifici considerati più a rischio effettuando proprio delle analisi sul territorio a questo punto di vista viene poi impiegato numeroso personale sia in divisa che in borghese poi c'è l'intuito veramente forte e molto importante degli investigatori del commissariato di Fano in questo caso appunto alla stazione sono state fermate numerose persone tra questi alcuni stranieri di nazionalità nigeriana e sullo scorto anche di informazioni che erano state diciamo di dati che erano stati acquisiti anche giorni precedenti sull'esperienza quindi di un arresto effettuato pochi giorni prima sempre a carico di un nigeriano che aveva all'interno proprio del proprio corpo nell'intestino delle dosi di eroina e sempre la polizia di Fano guidata da Stefano Seretti arrestato un 23enne fanese originario della campagna incensurato e disoccupato che aveva appena venduto 20 grammi tra ascisce e marihuana ad un cliente il tutto è accaduto all'interno di una vettura ferma in un parcheggio in zona Lido luogo prediletto insieme all'Arzilla per svolgere l'attività illecita il cliente è stato rilasciato mentre il pusher trovato anche con una banconota in mano provento dello spaccio è stato arrestato in flagranza di reato dopo la convalida è tornato in libertà in stazione verranno anche installate delle telecamere di videosorveglianza Sì verranno installate delle telecamere di videosorveglianza le quali sicuramente saranno utili anche per noi per le forze di polizia per la polizia e i carabinieri quindi per effettuare ulteriori controlli anche ai fini investigativi soprattutto E adesso parliamo di un incidente un incidente provocato la notte scorsa da un lupo in superstrada all'altezza di Bellocchi di Fano il conducente di 40 anni residente a Monte Felcino per fortuna ne è uscito in leso mentre nell'impatto l'animale è morto ed è stato recuperato nella mattinata intorno alle 6 del mattino dal servizio veterinario dell'area vasta 1 di Fano coordinato da Valerio Smilari che noi abbiamo ascoltato lo abbiamo recuperato al chilometro 155 in direzione sulla superstrada direzione Urbino Fano all'uscita di Bellocchi verso le 6 e 30 del mattino su indicazione della polizia stradale di Urbino perché ha provocato un incidente stradale in quale modo si può riscontrare il fatto che sia un lupo ma sicuramente dalla mole e comunque dalla dentatura dei canini molto pronunciati e anche la distanza tra un canino e l'altro è superiore a quella che generalmente può avere anche un cane pastore tedesco che è quello che magari somiglia di più poi anche dagli arti dalla stazza dell'animale lo inviamo all'istituto zooprofilattico per gli accertamenti di identificazione di specie però non è nemmeno un fatto una novità perché comunque è già stato segnalato anche su aggressioni a pecore e capre nella zona e il lupo si sposta all'incirca generalmente la notte per predare fa anche i 50 km quindi ci sta che possa essere un lupo abbiamo argomento coloro che intendono votare da casa le prossime elezioni regionali possono presentare domanda al comune di pesero ovviamente per chi risiede in quel comune entro lunedì 11 maggio all'ufficio elettorale corredata dalla documentazione sanitaria rilasciata dall'asu numero 1 sempre in tema di elezioni regionali un appuntamento venerdì alle ore 11 e 45 al caffè del pasticcere di Fano in via della Costituzione 8 verrà presentato il candidato Boris Rapa con uniti per le Marche per Ceriscioli saranno presenti il sindaco di Fano Massimo Seri il candidato presidente Luca Ceriscioli mentre proseguono i lavori per sistemare le tubature dell'acqua in corso Matteotti nel centro storico l'ASET annuncia che il prossimo 4 maggio inizieranno anche i lavori per l'illuminazione della pista ciclabile Fano-Pesaro grazie all'illuminazione verrà salvaguardata l'incolumità di ciclisti e pedoni che sempre più di frequento usufruiscono del tratto di ciclabile Fano-Fosso-Seiore potranno essere evitati quindi incidenti e anche mortali come successo a giugno 2012 a causa della scarsa visibilità e come annunciato dal direttore tecnico di ASET Spa Marco Rumei a distanza di quasi 5 anni dall'inaugurazione verrà completata la parte riguardante l'illuminazione entro il mese di maggio infatti termineranno i lavori che prevedono l'installazione di 165 luci nei punti di cablaggio già esistenti l'intervento riguarderà 4 km di pista mentre l'iter cominciato a fine dicembre 2014 ha coinvolto per sopralluoghi e autorizzazioni in il comune di Fanno la rete ferroviaria italiana e l'ANAS inizieremo i lavori il 4 maggio e intendiamo concluderli entro il 30 maggio quindi in poco più di 3 settimane dovremmo realizzare finalmente l'illuminazione pubblica della pista ciclabile da Fanno a Fosso Signore e la cifra per i lavori è quanto ammonda? la cifra complessivamente sarà intorno ai 100.000 euro poco più comprensiva sia della fornitura del materiale pali e armatura di illuminazione a led e la posa in opera quindi da giugno avremo l'illuminazione finalmente di tutta la pista ciclabile proseguono intanto i lavori iniziati il 13 aprile scorso nel centro storico di Fanno per l'intervento di bonifica della rete idrica un'operazione importante e non ulteriormente prorogabile che consentirà ai cittadini di contare su reti rinnovate e tecnicamente sempre più efficienti diciamo che la zona che interessa adesso i lavori quindi appunto il corso Matteotti da via Arco d'Augusto a via Garibaldi verrà divisa in tre stralci il primo stralcio appunto è addirittura d'arrivo diciamo che si concluderà presumibilmente alla fine della prossima settimana a tempo permettendo dopodiché appunto passeremo al secondo stralcio che è anche quello abbastanza invasivo in quanto arriverà poi in piazza 20 settembre quindi sostanzialmente partendo dalla prossima settimana siamo in linea con i tempi e contiamo di concludere anche il secondo stralcio verso la fine di maggio 20-25 maggio insomma ecco Ancora cronaca un anziano di 70 anni sui 70 anni è stato soccorso da un'ambulanza del 118 a seguito di un incidente avvenuto lungo la statale Flaminia con un camioncino l'uomo pare stesse pulendo il ciglio della strada di fronte alla sua abitazione a calcinelli di Saltara davanti al distributore dell'Agip quando improvvisamente è stato colpito con lo specchietto retrovisore di un furgoncino condotto da un altro settantenne del posto l'anziano è caduto a terra sbattendo il capo trasportato alla San Salvatore di Pesaro è stato ricoverato in prognosi riservata sul posto anche la municipale di Cartoceto Laura Cecconi è il nuovo presidente dell'associazione San Paterniano che si occupa della mensa per i poveri lo scorso anno sono stati erogati oltre 35 mila pasti 300 pernottamenti e distribuiti indumenti a più di mille persone Cecconi è stata eletta dall'assemblea annuale che ha rinnovato anche il consiglio direttivo e approvato il bilancio economico bilancio che si è chiuso con un totale dei costi di oltre 124 mila euro coperti per circa 107 mila da contributi e donazioni il presidente della regione Marche Gian Mario Spacca ha firmato oggi in veste di commissario delegato per il maltempo del novembre 2012 un decreto con cui vengono liquidati e derogati 191 mila euro ai comuni di Pesaro e Pergola per la riparazione di alcuni dei danni subiti durante l'emergenza appunto avvenuta tre anni fa nella diocesi di Fano Fossombrone Caglie e Pergola arriverà la prossima settimana una reliquia di Bernadette la donna che oltre 150 anni fa ricevette le apparizioni della Madonna a Lourdes l'11 febbraio 1858 nella grotta lungo il fiume Gave a Lourdes Bernadette Subirò ricevette la prima apparizione della Madonna dal 1903 invece l'Unitalsi organizza pellegrinaggi in quel luogo accompagnando malati e anziani ora il vescovo di Lourdes ha concesso una reliquia attratta dal cuore di Bernadette che sarà affidata al presidente dell'Unitalsi Fano dal 28 aprile al 6 maggio per essere poi portata alla venerazione della diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola in diocesi arriveranno le reliquie di Santa Bernadette la veggente di Lourdes ci sono state concesse dall'arcivescovo di Lourdes e verranno nella nostra diocesi come proprio primo posto delle Marche quindi un grande onore per la nostra città arriveranno nella nostra sede in via del torrente numero 3 dietro la chiesetta della trave e lì saranno accolte con un santo rosario il giorno dopo il 29 alle ore 9 saremo la casa di riposo Don Paolo Tonucci in via Bracci dove ci sarà la Santa Messa e alle 19 ci trasferiremo alla chiesa di San Sebastiano di Bellocchi anche qui ci sarà la Santa Messa e poi in processione si andrà a Casa Serena di Bellocchi al teatro dove ci sarà una proiezione di un film su Lourdes il giorno dopo 30 aprile alle ore 17 arriveremo alla parrocchia di San Giuseppe al Porto anche qui ci sarà la receta del rosario la celebrazione della Santa Messa e poi il saluto delle reliquie perché consegneremo le reliquie al gruppo Unitalsi di Corridonia che viene su a prenderle in consegna perché il primo maggio faranno la festa del malato a Corridonia e il 2 maggio saremo invece alla parrocchia di San Paolo Apostolo nel quartiere Vallato ci sarà la receta anche qui del rosario la preghiera del vespro la celebrazione della Santa Messa prefestiva e poi l'esposizione delle reliquie alla venerazione dei fedeli il 3 maggio andremo invece alla chiesa parrocchiale di Frontone per la celebrazione della Messa Domenicale e poi andremo a Fontevellana dove si consumerà un pranzo al sacco nei prati intorno all'eremo alle 16 nel tornare ci fermeremo al santuario del Pelingo dove consegneremo le reliquie alla presidente di Urbino Maria Luisa Lugulini che le porterà ad Urbino per le loro celebrazioni poi il 4 maggio ce le restituiranno e saremo di nuovo in sede per la receta del Santo Rosario e adesso apriamo una finestra di sport anche se non è quello giocato perché cresce l'attesa per il derbissimo di domenica allo stadio Mancini dove l'Alma Juventus Fano incontrerà i cugini della Vis Pesaro in attesa di gustarci tutto il menu domenicale con la grande partita di calcio questa sera giocatori e tifosi si incontreranno per un aperitivo un aperitivo che è in corso in una nota pasticceria bar pasticceria di Fano dove c'è per noi Sergio Catalani Apericera Granata siamo qui al bar pasticceria Guerrino di Nevia Togliatti a Fano in vista e in prossimità del derbissimo di domenica prossima siamo con il DS del Fano Roberto Canestrari un belissimo evento che la società ha promosso in vista di questa gara tutto da vincere nell'ambito di questo campionato veramente strepitoso che la scuola dell'Alma sta conducendo veramente in una maniera impeccabile Roberto tutto molto bello si direi tutto molto bello ci è stato chiesto questo e quando si può fare questo incontro squadra tifosi la società come sai è sempre disponibile a questo tipo di cosa oltretutto a maggior ragione in questa settimana anche estremamente particolare anche per stemperare un pochino di tensione perché questa è una partita oltretutto particolare estremamente particolare affascinante perciò e te lo ho detto e ripeto quando c'è la possibilità di incontrarsi con i nostri tifosi la squadra tifosi e società siamo sempre diamo sempre la massima disponibilità c'è Andrea Sivilla che abbiamo visto insomma quanto ci tiene veramente a chiudere bene questo campionato sì partiamo dal presupposto che far gol fa sempre piacere quindi ogni attaccante scende sempre in campo per fare il massimo e soprattutto anche per far gol però ripeto le cose migliori sono arrivate a livello di squadra e soprattutto quello che ci hanno portato avanti sono stati i risultati e non le individualità quindi ripeto far gol non posso nasconderlo ovviamente mi farà il doppio piacere magari domenica perché so che rivalità calcistica c'è fra le due città e quindi sarebbe un ennesimo regalo ai nostri tifosi comunque faremo il massimo e cercheremo di regalargli un'ultima soddisfazione un'ultima un'ennesima soddisfazione che meritano e soprattutto noi meritiamo grazie Andrea una battuta alla volo con Lollo Fatica sì ormai la maceratese noi non la possiamo dire sì la guardiamo ma se questi non perdo mai c'è poco da fare noi guardiamo noi stessi sì anche domenica scorsa abbiamo fatto abbiamo fatto bene alla fine soprattutto chi è entrato ha dato la svolta come nel caso di Matteo Sartori e quindi niente dai noi guardiamo la nostra partita e vediamo dopo quello che chissà che non sia domenica chi entrerà ovvero tu magari che potresti dare anche il suggello finale quanto daresti per fare un gol sotto la curva e batterla vista eh darei tanto poi se segno il padre di mia amorosa mi dà anche ha detto che mi dà 150 euro quindi devo segnare a tutti i costi devo segnare bene grazie Sergio Catalani per questo collegamento il telegiornale finisce qui grazie per averci seguito arrivederci grazie a tutti i nostri spettatori